Musica Bambina negata giallo nel sannio, l'hanno ritrovata senza vita nella piscina di un agriturismo a San Salvatore Telesino, figlia unica di una coppia di rumene, aveva 9 anni, forse un incidente, ma non si esclude nessuna ipotesi. Melito, la camorra torna ad uccidere, un agguato di camorra nel napoletano, morto e due feriti, tra cui un minorenne. I due killer volevano uccidere il figlio del capo degli scissionisti, è invece morto il suo guardaspalle. Avellino, Lasle, licenze e furbetti del cartellino, mandate a casa sette dipendenti tra infermieri e funzionari amministrativi. Il manager dell'azienda, Ferrante, chiarisce. Atto dovuto, siamo solo all'inizio, ma i provvedimenti saranno contestati. Sgominato il clan guidato dalle donne, operazione anticamorra all'alba di oggi, a Rione e Conocal, catturate a Ponticelli di affiliati al clan d'Amico. Le donne al vertice della cosca, lo spaccio di droga anche davanti ai bambini. De Magistris Lettieri, lo scontro continua. Il riconfermato sindaco di Napoli rilancia e la vittoria del popolo. La città è autonoma. Il presidente Atitec non gli fa gli auguri e accusa. Lui non ha un progetto per la città. Voti comprati, denuncia di Mastella. L'ex ministro nuovo sindaco di Benevento attacca il centro-sinistra e chiama la procura. Si indaghi sulla compravendita delle preferenze. De Mita e De Girolamo al suo fianco. Sconfitto il PD arrogante di Del Basso De Caro. Buonasera e ben ritrovati con il nostro Tg in primo piano La Cronaca. San Salvatore Telesino è sotto shock. La comunità è scossa per la tragedia di ieri notte quando una bambina rumena è stata trovata morta e senza vestiti in una piscina. Poca voglia di parlare tra i cittadini del comune telesino. Il parroco Don Franco pensa a una veglia per ricordarla. Vediamo. Sono cose che non sono mai successe a San Salvatore e questo ci lascia un po' di scomenti per la verità. Una comunità sotto shock. Avrebbero dovuto essere le serate allegre di giugno, quelle tra le luci della festa di paese e le chiacchiere in piazza. Ma la serata di ieri a San Salvatore Telesino ha gettato via in un colpo serenità e spensieratezza. Quelle grida hanno squarciato la tranquillità. Grida per quella bambina di nove anni trovata morta in una piscina, senza vestiti. Si cerca di ricostruire le ultime ore della vita di Maria, da quando è uscita dalla chiesa a quando è arrivata quella piscina. Ma intanto tutti i cittadini sono scioccati. Poca la volontà di parlare, mentre si formano crocchi ad ogni angolo per commentare sommessamente la tragedia. Il mio pensiero è che una cosa che non succedeva mai e non è successo mai a San Salvatore di Resino è che la popolazione è rimasta sotto shock. Ho visto lei uscire ma senza nessun, voglio dire, mai a pensare, mai immaginavo che potesse succedere qualcosa del genere. O la bambina ha fatto un'azione che non poteva e quindi si è andata a buttare in piscina, a fare il bagno, ma mi sembra un po' impossibile. L'azione più penso che qualcuno ce l'abbia buttata e ha ricostruito un po' tutto. Terribile. Penso che parole in queste occasioni veramente è difficile trovarle. Siamo tutti terribilmente feriti da questa esperienza perché in un paese come il nostro, come dire, sembra in attesa un luogo dove non poteva accadere. Però questo ci fa pensare, ci fa svegliare, ci fa guardare alla storia con uno sguardo diverso e soprattutto ci fa pensare che anche noi dobbiamo essere presenti probabilmente con una forza, un impegno, una fede nuova all'interno della comunità. Ancora un agguato nel napoletano a Merlito. Due killer hanno ucciso un giovane e feriti altri due. L'obiettivo della sparatoria era il 17enne Domenico Amato, figlio del capo degli scissionisti, che ora è grave. In ospedale, vediamo. Ancora far west per le strade di Napoli. Un morto e due feriti, questo il bilancio dell'ultima sparatoria avvenuta a Merlito. L'obiettivo dei sicari era Domenico Amato, 17enne, figlio del capo degli spagnoli, è rimasto gravemente ferito. È morto invece il suo guardaspalle, un trentenne, e un altro giovane di 20 anni è rimasto ferito. Secondo una ricostruzione fornita dagli investigatori, l'agguato sarebbe durato diversi minuti con tanto di inseguimento. I killer sarebbero entrati in azione intorno alle 13 in via Cicerone. Erano in quattro, in sella a due potenti moto, ed hanno puntato le pistole contro Domenico Amato. Il minorenne è stato ferito con diversi colpi di pistola e uno di questi lo ha colpito al torace. Fuoco anche contro due ragazzi che si trovavano in compagnia di Amato. Raffaele Mauriello, ventenne di Melito, è un cittadino extracomunitario pregiudicato vicino al clan Amato Pagano. Il 17enne è rimasto tramurtito a terra, mentre gli altri due giovani, pur feriti, sono riusciti a salire in sella ad uno scooter, ma sono stati rincorsi dai killer. A tutta velocità hanno percorso Vialdo Moro prima di tuffarsi in un palese controsenso. Improvvisamente la moto dei killer si scontra con un'auto. Solo così Mauriello e l'extracomunitario sono riusciti ad arrivare in via Giulio Cesare ed hanno trovato ripare in un appartamento al quarto piano del rione popolare, chiamato da tutti Parco di Padre Pio. I due giovani hanno provato a medicarsi alla meglio fuori al balcone di casa, liberandosi del sangue che veniva fuori copioso dai loro corpi e che scivolava lentamente nel cortile del palazzo. Pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto i militari dell'arma e gli uomini della scientifica di Castello di Cisterna, oltre all'ambulanza che ha trasportato il giovane straniero in ospedale. Per Mauriello, invece, non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo senza vita è rimasto all'interno dell'appartamento al quarto piano del palazzone di edilizia popolare, nei pressi del quale il mese scorso fu trovato il cadavere seppellito di Giovanni Arrivoli. E arrivano i primi sette licenziamenti per i furbetti dell'ASL di Avellino. Il commissario Ferrante mostra il pugno duro. Entro la prima decada di luglio scatteranno altri provvedimenti. ASL di Avellino via i furbetti scatto di primi sette licenziamenti senza preavviso all'esito dell'indagine della commissione interna istituita dal commissario straordinario Ferrante a marzo, all'indomani del blitz della squadra mobile, colpiti infermieri e funzionari amministrativi. Io penso che è la cultura nuova che la pubblica amministrazione sta vivendo. Questo è un esempio, ma diciamo, si sta vedendo su tutti i giornali ci sono problemi in varie amministrazioni. Quindi, secondo me, è un reddito di cambiamento che ognuno deve far proprio e pensare che il futuro è fatto così. Io mi auguro che ci possiamo fermare qui dal punto di vista dei licenziamenti e che ci siano solo delle sanzioni differite, graduali, in base alle cose che sono state fatte da ogni singolo dipendente. Ferrante parla di atto dovuto. Siamo solo all'inizio, nel Mirino ora a livelli più alti. Direttori di struttura, responsabili di culpa in vigilando. Il direttore verrà fatto la valutazione per la culpa in vigilando appena si chiude tutto l'iter di base di tutti i dipendenti. L'Avvocato Dello Russo difende tre licenziati, parla di incongruenze tra l'indagine interna e quella della Procura. Si arriva ad un provvedimento così drastico come il licenziamento quando l'inchiesta della magistratura ordinaria è appena agli inizi. Io penso che non c'è stata proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti che vengono contestati. I fatti che vengono contestati vengono fatti riferimento alle indagini della Procura della Repubblica, che sono degli atti che sono ancora in fase di indagine. Le indagini non sono ancora concluse, quindi andremo in fase di battimentale dove saranno accertate le reali responsabilità di ognuno. Ad oggi vengono notificate delle sanzioni, cioè la più grave delle sanzioni disciplinari, che è il licenziamento disciplinare, senza capire ancora qual è la gravità del fatto. Donne boss e spaccio tra i bimbi che giocano stanotte 90 arresti nella maxi operazione dei carabinieri di Ponticelli. Decapitato il clan d'amico De Luca Bossa. Simonetta Ieppariello. Blizza Anticamorra a Ponticelli, con oltre 300 carabinieri impegnati nella cattura di 90 persone, accusate di far parte a vario titolo del clan d'amico, che controlla tutte le attività illecite nella periferia est della città. I reati ipotizzati dalla DDA sono associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, estorsione e narcotraffico, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. I carabinieri hanno completamente circondato l'area del rione Conocal sotto il controllo del comandante Centola. Fare chiarezza, di mettere in luce l'articolazione di questo clan, di raccogliere indizi gravi di colpevolezza in ordine a reati di una certa gravità, qual è l'associazione di tipo mafioso, il traffico di sostanze stupefacenti. I filmati mostrano come in il rione si spacci la droga mentre i bimbi giocano, come rimarca lo stesso procuratore Colangelo. Uno degli aspetti più inquietanti di questa indagine è che ha messo in evidenza un dato che purtroppo emergeva anche altrimenti, che purtroppo i bambini vivono a contatto con una realtà criminale. Non sempre si tratta ovviamente, per fortuna, di un reale coinvolgimento, quanto di una presenza dei bambini sul luogo di fatti criminali che ahimè li espone a percepire questa realtà pressoché quotidianamente. Ci sono anche le donne boss tra gli arrestati nella maxioperazione che decapita nei fatti il clan D'Amico e quello dei De Luca Bossa. Tra gli arrestati infatti figura anche Carla D'Amico che con l'uccisione avvenuta nell'ottobre scorso della sorella Nunzia aveva assunto le redini del clan. Ora la camorra la facciamo noi, tanto Cernobil non ci sta più. Ora è peggio, ci stanno le donne. Così parlava Nunzia D'Amico, legata sentimentalmente a uno dei loro elementi di vertice, Salvatore Ercolani, detto appunto Cernobil, mentre discuteva con un affiliato dopo che aveva preso in mano le redini del gruppo. La donna, madre di sei figli, fu uccisa il 15 ottobre scorso nel suo rione, il rione Conocal. Ed ora la politica, parliamo dei ballottaggi di ieri, fa discutere il caso a Napoli dove De Magistris ha annunciato la mia è una vittoria contro Renzi. Il PD recupera a Caserta e in diversi comuni della provincia di Napoli. Se per Matteo Renzi il voto delle comunali era soltanto locale e la vera sfida ora il Premier vuole giocarla sul referendum, i segnali che sono arrivati dalla domenica dei ballottaggi dovrebbero preoccuparlo non poco. L'asse 5 Stelle centrodestra, a livello nazionale, che in Campania si concretizza nei trionfi di De Magistris e di Mastella, rischia di pesare in maniera determinante nel momento in cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale proposta dal Presidente del Consiglio. Non a caso da Benevento l'immortale Mastella gli ha subito rivolto un messaggio per cambiare l'Italicum. L'unica consolazione per il PD in Campania, dove perde Benevento dopo dieci anni di governo, è la riconquista di Caserta, ma si prende anche città importanti come Castellammare, Casoria, Poggio Marino, Fratta Minore, Marcianise e Sessa Aurunca, risultati da attribuire in parte al lavoro dell'asse Casillo-Topo che guidano il PD in Consiglio regionale. Resta la debacle di Napoli, dove si è registrata un'assenzione record con quasi sette elettori su dieci che sono rimasti a casa e dove il PD è riuscito a dividersi schierandosi in parte anche con lo sconfitto Gianni Lettieri. Ma l'assenza del partito dal ballottaggio per Antonio Bassolino è stato un delitto politico. Trionfa invece a Napoli l'antirenzismo di De Magistris, che ora guarda oltre perché il suo podemos napoletano può diventare qualcosa di più importante, che può camminare di pari passo con i 5 Stelle per la conquista di Palazzo Chigi. Sullo sfondo restano i veleni di una campagna elettorale che anche nel giorno del ballottaggio a Napoli ha fatto registrare alta tensione e persino aggressioni nei seggi. Qui non ci sono Massanielli. Esiste un progetto Napoli completamente autonomo e che per questo fa paura. Il giorno dopo la sua vittoria a Luigi De Magistris è gasatissimo in conferenza stampa mentre lo sconfitto Gianni Lettieri non si rimproverà niente. Vorrà dire che mi riprendo. 5 anni di vita. Vediamo. Il modello Napoli un esempio da esportare. Luigi De Magistris guarda già oltre il secondo mandato. La riconferma come trampolino di lancio per il suo movimento, per affermarlo a livelli nazionali. Una Napoli autonoma. Nessuna esperienza è avanti come noi. Qui è stato eletto un sindaco che ha governato senza soldi e con tutti contro. Napoli si è liberata definitivamente. Non ha guinzaglio. E quando Napoli e i napoletani si liberano, la canzone che ci fanno quando andiamo a Bergamo con l'Atalanta o piuttosto a Verona, arrivano i napoletani. Noi la cagliamo completamente. Cioè loro devono capire che i napoletani stanno arrivando. E quando arrivano i napoletani, quelli buoni, che decidono di far ritornare Napoli a essere capitale, morale, politica, dei giovani, della cultura, non è nudato alla Masaniello. Masaniello non esiste. De Magistris ha governato 5 anni. Esiste qualcosa di più grande. Esiste il progetto Napoli che significa cambiare il paese governando con le mani pulite e dando potere e responsabilità al popolo. Questo fa paura. Poco prima di lui parla il grande sconfitto, l'eterno avversario, quel Gianni Lettieri che non gli fa gli auguri, anzi torna ad attaccarlo. Non ha un progetto per la città, mentre il mio era il migliore. Mi riprendo 5 anni di vita, quelli che avrei voluto dedicare alla mia città. Io ho la coscienza a posto, ho fatto quello che pochi napoletani hanno fatto, cioè dedicare un pezzo della vita alla propria città e ai cittadini. L'ho fatto perché io ho il cuore da scugnizzo, la testa da imprenditore e avevo deciso di regalare 5 anni della mia vita alla città di Napoli. Il mio è un progetto valido. Sotto questo aspetto ho la coscienza a posto, ho fatto quello che dovevo fare. Un domani nessuno mi può dire niente perché io ci ho messo passione, coraggio, la faccia insieme a questi straordinari ragazzi che mi hanno accompagnato in questo periodo. E dopo la clamorosa vittoria elettorale andiamo a vedere come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale De Magistris bis a Palazzo San Giacomo. Molte le novità, soprattutto nei banchi dell'opposizione, tante le riconferme la clemente verso la Presidenza del Consiglio. Rossella Strianese. 20 new entry, 12 donne per il nuovo Consiglio Comunale Targato De Magistris. Un Consiglio in formato ridotto per effetto della riforma che passa da 48 a 40 consiglieri più il Sindaco. Esordio assoluto per il Movimento 5 Stelle che approde in un'aula molto meno civica di quella precedente, più politica almeno sul fronte della minoranza. Ma vediamo la mappa del nuovo Consiglio. Alla maggioranza vanno 24 seggi, 16 all'opposizione. I candidati sindaco sconfitti siederanno in aula. Valeria Valente per il PD, Matteo Brambilla per i Grillini. Resta ancora in dubbio la partecipazione di Gianni Lettieri a questo secondo mandato. Il presidente di Atitec potrebbe decidere di lasciare a Mara Carfagna, la più votata in assoluto, il compito di fare opposizione a De Magistris per i prossimi 5 anni. Tra le liste che hanno sostenuto il Sindaco eletto, l'asse portante spetta al gruppo De Magistris Sindaco, che conquista ben 10 seggi, di cui 7 uscenti e riconfermati. Gabriele Mundo, Fulvio Frezza, Elpidio Capasso, Carmine Sgambati, Gaetano Troncone, Francesco Vernetti e Luigi Zimbaldi, più tre nuove entrate, Manuela Mirra, Lola Bismuto e Nino Simeone. La seconda lista con più eletti è sempre di diretta emanazione di De Magistris, se si tratta di Demma, che prende il nome dalla sua associazione. Eletta l'ex assessore ai giovani, Alessandra Clemente, che è in pole position per la presidenza del Consiglio Comunale, nel posto che ha occupato fino a ieri l'ex rettore Raimondo Pasquino, il quale però potrebbe ottenere la carica di vice sindaco. Gli altri eletti di Demma sono Eleonora Di Maio, Rosario Andreozzi, Claudio Cecere e Salvatore Pace. La lista della sinistra vede tornare in aula l'ex assessore allo sport Ciro Borriello, l'assessore al patrimonio Sandro Fucito, Mario Coppeto, ex presidente della circoscrizione Vomero e l'attivista Elena Coccia. Maria Caniglia entra a rappresentare la lista Cesim, Sfasteriati e Pasquino e David Lebero per la lista La Città con De Magistris e la novità Roberta Giova. Tornano anche i verdi tra gli arancioni e sono Stefano Buono e Gaudino Gaudini. Nel centro-sinistra il PD incassa sei consiglieri, oltre alla valente riconfermati Aniello Esposito e Salvatore Madonna, con Alessia Quaglietta, Federico Arienzo e Lea Ulleto. Mimmo Palmieri risiede in aula con la lista Napoli Popolare. Per il Movimento 5 Stelle con Brambilla c'è anche Francesca Menna. Il centrodestra mette in prima fila l'ex ministro Carfagna con Salvatore Guangio e Stanislao Lanzotti. Per la lista Napoli-Capitale si riconferma Andrea Santoro. In prima Napoli troviamo anche Marco Nonno, riconfermato, e Ciro Langella. Per la Giunta per il momento tutto fermo. De Magistris aveva dichiarato alla vigilia squadra che vince e non si cambia, ma non è escluso qualche intervento, anche minimo in questa prima fase, salvo poi rivoluzionare tutto a fine anno. Abbiamo liberato Benevento dall'arroganza di un PD che ha occupato il potere. Così Clemente Mastella nella conferenza stampa di analisi del voto del ballottaggio. Accanto al neosindaco di Benevento, Nunzia De Girolamo e Giuseppe De Mita. Il servizio è di Andrea Caruso. Visibilmente stanco dopo la notte che l'ha nuovamente catapultato alla ribalta politica nazionale, Clemente Mastella commenta con serenità l'esito del ballottaggio che lo ha consacrato come nuova fascia tricolore a Benevento, traendone come un pendolo conseguenze oscillanti ora sul piano nazionale, ora locale. L'ex ministro si concede testualmente un pernacchio rivolto a Matteo Salvini, mette in guardia il premier Renzi dai rischi dell'Italicum, crede in un laboratorio politico che metta al centro il centro. Si fa megafono di un guizzo di reni del mezzogiorno sfiorando una curiosa aderenza con l'onda arancione di De Magistris. Ma c'è una città da amministrare, a cominciare dal post alluvione e dalla questione mensa. Sulla giunta il sindaco lascia intendere di voler premiare soprattutto la pattuglia dei candidati, senza precludere a possibili ingressi tecnici, soprattutto per quanto attiene il bilancio e la programmazione economica. Deleghe spinose perché si teme che scandagliare i conti di Palazzo Mosti sia un po' come dover pescare la carta degli imprevisti al Monopoli. Censire, avvalutare e attentare la risposta agli enormi, drammatici problemi che vive la città, a partire da quelli dell'alluvione, che hanno trovato mai sfogo in qualche risorsa, se anche contenibile, seppur contenibile mai questo sfogo è arrivato, fino ad ora non c'è una risorsa che sia stata giocata fuori la roulette di Benevento. Io andrò a tutte le autorità istituzionali stabilite, dal vescovo, dal prefetto, dal questore, dal provatore, dal presidente del tribunale, insomma dovunque, meno al presidente della provincia che ne riconosco questa titolarità. Quindi a lui non vado perché ne riconosco più questa titolarità istituzionale. Sullo sfondo resta il tema della liberazione dalla cappa del PD. Mastella si augura dalla Procura della Repubblica certamente su presunti episodi di compravendita dei voti davanti ai seggi, ma i colpi più pesanti all'indirizzo degli sfidanti li scagliano Giuseppe De Mita e soprattutto Nunzia De Girolamo. La parlamentare di Forza Italia bolla la debacle di Del Vecchio come una sconfitta di Del Basso De Caro, invita Mastella a non riaccogliere eventualmente il trasfuga De Pierro e non nasconde la soddisfazione per il flop dell'ex uomo di destra Capezzone e il mancato scatto di seggio per Raffaele Tibaldi, suo ex candidato, nella precedente tornata elettorale. Adesso andiamo a Caserta. Emozionato è il neoprimo cittadino che ha subito voluto abbracciare le sue figlie. Un risultato che conferma i sondaggi di questo mese sull'esponente del PD. Vediamo. Il risultato è arrivato quasi subito, complice anche il basso dato di affluenza alle urne per il ballottaggio a Caserta ed ha visto trionfare Carlo Marino, il candidato del centro-sinistra contro Riccardo Ventre del centro-destra. Un risultato che era già nell'aria, anche se il ballottaggio rappresenta una nuova partita. Marino ha seguito all'interno del suo comitato lo spoglio, dove in tanti hanno voluto raggiungerlo per abbracciarlo e stringergli la mano. Il primo pensiero appena letto sindaco di Caserta è stato subito per la famiglia e le sue bambine, che ha voluto immediatamente abbracciare. Provo una gioia indescrivibile, ha spiegato Marino. Sento una grande responsabilità nei confronti di questa città. Le prime parole che il neoprimo cittadino ha espresso. Ma c'è ancora spazio per i sorrisi e poi subito al lavoro per far tornare la città di Caserta al suo splendore ed infondere fiducia nelle istituzioni ai tantissimi cittadini che hanno scelto di non votare. È un momento importante per la città. Noi iniziamo un cammino nuovo, un racconto e un viaggio nuovo. Vogliamo portare i casertani a fare sviluppo, competitività e soprattutto protezione dei deboli. Posso intervenire un attimo? Sì, ecco qua. Un attimo, scusate, ma è proprio. La fascia che ha dato il comune di Casano a mio padre passa a mio marito. Recuperato il gap del primo turno, Cecilia Francese trionfa nettamente al ballottaggio e diventa il primo sindaco donna di Battipaglia. Sono ora sconfitta per Motta, quindi sostenuto da PD e De Luca. Vediamo il servizio di Giovanni Battista Lanzilli. Cecilia Francese è il nuovo sindaco di Battipaglia, l'esponente di centrodestra, si è affermata nettamente al ballottaggio ed è diventata il primo sindaco donna della storia della città della Piana del Sele. C'è tanto da lavorare, bisogna un attimino capire tante cose in questo comune che fino ad ora non sono molto chiare. Innanzitutto, realmente, quando sono i debiti, quali sono le entrate vere e che cosa possiamo tagliare, gli sprechi, insomma c'è tanto da lavorare. Sono importanti il sostegno di Ugo Tozzi, il sostegno di Giuseppe Salvatore, il sostegno di me, il sostegno di tutti i battipagliesi che volevano cambiare, volevano una battipaglia diversa, volevano liberarsi di un vecchio modo di fare politica. E dico agli elettori di Motta, mi dispiace perché c'è chi vince e chi perde, ma che io sono il sindaco di tutti, per cui possono fidarsi anche di me. Il vice sindaco designato sarà Ugo Tozzi che ha appoggiato la francese al ballottaggio insieme alla compagine che lo ha sostenuto nella competizione elettorale. Sconfitto il rivale Gerardo Motta e con esso il governatore regionale Vincenzo De Luca è soprattutto un PD che abbattipaglia e ridotta i minimi termini e si avvia al commissariamento. Motta ha usato parole al vetriolo contro i vincitori preannunciando battaglia in Consiglio Comunale. A voto popolare sovrano noi prendiamo atto di questa cosa. Confermo che il gruppo di potere che sta dietro alla francese è un gruppo pericolosissimo, li aspetto in Consiglio Comunale anche perché sappiamo già gli interessi di ognuno di quel gruppo quali sono. La città ha scelto questo, bene, come è accaduto sette anni fa, si lamenteranno dopo due giorni e diranno che hanno sbagliato. Faremo in modo, faremo in modo, ecco che questo schifo in questa città finisca perché veramente si è superato ogni limite. Vittoria schiacciante del Partito Democratico a Castellammare, Antonio Pannullo è il nuovo sindaco della città stabiese. Festa grande nella notte tra i militanti e i simpatizzanti della coalizione. Antonio Pannullo è il nuovo sindaco di Castellammare di Stabia, abbattuto al ballottaggio Gaetano Cimmino ottenendo 11.249 voti, pare al 57,15%. La coalizione di centrodestra del suo avversario, Cimmino, che partiva sfavorito, ha ottenuto invece 8.435 voti per una percentuale del 42,85%. Si chiude così il ballottaggio a Castellammare con la vittoria schiacciante del Partito Democratico. Negativo il dato dell'affluenza rispetto al boom del primo turno. Nelle 65 sezioni cittadine hanno votato poco più di 20.000 persone. Per il nuovo primo cittadino stabiese ci saranno subito tanti nodi importantissimi da sciogliere. Infatti all'avvocato Pannullo toccherà fare i conti con la questione terme e soprattutto con gli infiniti lavori in villa comunale. Noi vogliamo recuperare quello che è mancato negli ultimi anni a Castellammare, la possibilità di vivere la città a tutto tondo. Questa città deve essere anche difesa, questa città si deve riacquisire anche di un patrimonio morale e culturale e anche in questa direzione lavorerò. Io vorrei essere sindaco da domani di tutti, anche di chi non mi ha votato. Oggi abbiamo un obiettivo, riprendere questa città, riprenderci questa città e farla di nuovo sorridere. Nella notte è subito scattata la festa a Castellammare. Nel comitato elettorale di Via Alvino si sono ritrovati i simpatizzanti del partito e della coalizione. Applausi scroscianti all'arrivo del consigliere regionale PD Mario Casillo che ha voluto testimoniare la sacra amicizia che da anni lo lega al suo pupillo Pannullo. In provincia siamo andati benissimo, oggi anche il ballottaggio a Casoria, ha visto il partito democratico vincere, oltre che a Castellammare sono due città importanti. È la dimostrazione che alla fine, quando si lavora sul territorio, è quello che è un po' mancato a Napoli, alla fine le risultate arrivano. Vittorie plebiscitarie, altre sul filo di lana, ecco i sindaci degli altri comuni della campagna elettri ieri sera al secondo turno di ballottaggio. Avvico e Quenze, il sindaco, l'ha spuntata per 32 voti. Vediamo. Riconferme colpi di scena e vittorie sul filo di lana, i sindaci dei 14 comuni della campagna superiore a 15.000 abitanti ieri sera hanno festeggiato la conquista della poltrona da primo cittadino. Le operazioni di spoglio sono state molto veloci, il quadro delle preferenze si è delineato molto velocemente e qualche sindaco ha festeggiato ancora prima della chiusura delle sezioni. A Battipaia il sindaco Cecilia Francese ha festeggiato in piazza insieme ai suoi concittadini la sua vittoria, mentre in altri comuni la lotta è stata dura, alcuni sindaci hanno giocato la partita fino alla fine, spuntandola per una manciata di voti. È il caso di Sessa Aurunca, dove il sindaco Silvio Sasso è stato eletto con una percentuale pari al 50,62. Stesso caso Avvico e Quenze, dove Andrea Buonumore l'ha spuntata per 32 voti di differenza. Anche a Volla, Andrea Viscova, non ha ottenuto una maggioranza bulgara, così come a Casoria, dove Pasquale Fuccio ha vinto per un centinaio di voti. Novità e voglia di cambiamento invece a Marcianise, che volta pagina e per scrivere la sua nuova storia si affida al giornalista Antonello Velardi. Ad Averse, Enrico Cristoforo, il giovane architetto di centro-sinistra, è alla guida del comune. Fratta Minore, il nuovo sindaco e il farmacista Giuseppe Bencivenga, già consigliere comunale uscente. A Gragnano, con il 61% delle preferenze, Paolo Cimmino torna ad essere sindaco. Appena due anni fa l'elezione come primo cittadino gragnanese è cancellata dal ricorso per ineleggibilità. Anche a Poggio Marino, Leo, annunziata fa il bis e viene eletto al turno del ballottaggio contro Maurizio Falanga del centro-destra. E diventa ogni giorno più pesante il bilancio dell'esplosione della bombola di gas avvenuto a Corleto, Monforte, in provincia di Salerno. Stamattina è morto il proprietario dell'immobile. Le vittime ora salgono a tre. Troppo gravi le ferite riportate. Questa mattina Corleto, Monforte, piange anche la terza vittima del drammatico scoppio di una bombola di gas che ha squassato la tranquillità del piccolo centro della provincia di Salerno. Questa mattina i medici del reparto Grandiustionati del Cardarelli di Napoli hanno infatti dovuto constatare il decesso di Rosario Cancro, 61 anni. Sale dunque a tre il gravissimo bilancio delle vittime dell'esplosione domestica avvenuta sabato pomeriggio. Cancro, classe 1955, era il proprietario dell'immobile nel quale è avvenuta la tragedia. Trasportato in eliambulanza al nosocomio partenopeo, anche le sue condizioni sono apparse subito gravi. I medici del Cardarelli hanno provato ogni strada per strapparlo alla morte, ma senza riuscirci. Il 61enne è la terza vittima dell'incidente. La prima è stata Mario Salerno, 70 anni, residente da anni ad Asti, ma rientrato a Corletto per trascorrere qualche giorno di vacanza. Si trovava nell'abitazione del consuocero al momento dell'esplosione ed è morto all'istante. Ieri, intanto, a non farcele era stata la signora annunziata Farina, 95 anni, anch'essa ricoverata d'urgenza al Cardarelli. Oggi la notizia della tragica morte anche di Rosario. Una vera e propria strage dunque, quella con cui si ritrova a fare i conti la piccola comunità di Corletto-Monforte, ancora sotto shock per quanto accaduto in quel maledetto pomeriggio di sabato. Un morto e quattro feriti e il tragico bilancio di un violento frontale avvenuto ieri sera tra due vetture sullo Fantina nei pressi del comune di Nusco. Michele Pinto, 29 anni, di Pesco Pagano in provincia di Potenza, alla guida di una Fiat Punta non ce l'ha fatta. Il cuore del giovane ha cessato di battere presso l'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Il seguito alle ferite riportate. Le sue condizioni erano apparse subito disperate ai soccorritori della pubblica assistenza di Lioni. Hanno riportato ecchimosi e fratture varie. Gli altri quattro feriti, versa in una situazione più critica, un 39enne di Avellino, il conducente della Mercedes classe A. Teatro dello scontro, abbiamo detto, il tratto tra Nusco e Lioni. A bordo della Punto con Michele Pinto viaggiavano la mamma, che ha riportato fratture alle costole, ricoverata al Moscati e il papà con ferite più lievi. E' ricoverato anche lui a Sant'Angelo dei Lombardi. Ed ora cambiamo argomento. Se Salerno è fra le prime città d'Italia per asili nido in campagna, la situazione è molto più difficile. Il governatore De Luca in città per la prossima inaugurazione della struttura di via Bottiglieri annuncia l'impegno per realizzare 200 nuovi asili nido in regione. Vediamo il servizio. In città per dare il via ai lavori di adeguamento dell'edificio scolastico di via Bottiglieri che ospiterà un asilo nido per 30 bambini, il governatore regionale Vincenzo De Luca si è soffermato sulla necessità di puntare con forza sulle politiche sociali e per le famiglie. Salerno si prepara a diventare una delle città d'Italia con il maggior numero di asili nido a disposizione per i più piccoli, mentre nel resto del territorio regionale la strada da percorrere è ancora lunga, come ha testimoniato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia. Che ha vantato nel corso di questi anni l'amministrazione comunale di Salerno sono quelli relativi alle politiche sociali e alle politiche ambientali. Salerno ha i vertici nazionali per la raccolta differenziata, per il sistema di parchi urbani e per quanto riguarda le politiche sociali per la rete di asili nido. Avevamo qualche anno fa l'obiettivo di essere la prima città d'Italia per la rete di asili nido. Siamo ormai a ridosso di questo primato. Credo che sopra il 30% di posti per i bambini a fascia a zero a tre anni ci sia soltanto Reggio Emilia e Firenze. Ormai siamo lì. Cioè Salerno sta diventando la prima città d'Italia per la rete di asili nido. Peraltro sono asili nido di una qualità eccezionale, come potete vedere se parlate con le mamme che portano i bambini. Dobbiamo continuare in questa direzione, continuare ad investire nelle politiche sociali e questo aiuta anche la Regione a raggiungere un obiettivo proprio che ci siamo proposti a livello regionale. La Regione Campania è l'ultima Regione d'Italia per la rete di asili nido insieme con Sicilia e Calabria. Dobbiamo realizzare 200 asili nido nuovi. Quindi questa nuova realizzazione ci aiuta ad avvicinarci all'obiettivo. Il 1500 a Fontana Rosa per il grande cammino regionale delle confraternite della Campania. Una ricorrenza resa ancora più significativa quest'anno nell'ambito del Giubileo della Misericordia. Noi abbiamo documentato l'evento con Gianni Vigoroso. Un'occasione significativa di scambio, confronto e aggregazione ma anche di rilancio per la vita spirituale e pastorale nello stile di una evangelizzazione e di una rinnovata pietà popolare come ha ricordato a tutti il Vescovo Francesco Marino. Una strada che porta all'essenziale se vissuta nella Chiesa in profonda comunione. In 1500 a Fontana Rosa per il quinto cammino regionale delle confraternite della Campania il Comune Urbino è tra i più rappresentativi sede di tre importanti confraternite. È l'anno della misericordia. L'anno che il Papa ha voluto appunto per farci rivivere quello che in fondo è il nome di Dio. Dio è misericordia. Il suo nome è misericordia. Quindi anche le confraternite hanno questa particolare esperienza per vivere al meglio questo anno della misericordia. Ogni volta che si fanno questi raduni è una bellissima emozione. È una cosa da non credere nel senso che uno che ci crede veramente si emoziona e non trova parole per definire queste manifestazioni. Il senso prima di tutto è quello della fratellanza. Fratellanza tra noi confratelli e fratellanza con i paesi vicini, i paesi che hanno partecipato a questa grande manifestazione perché come tu puoi vedere si tratti di una grande manifestazione per un piccolo paese come Fontana Rosa. Termina qui il nostro Tg. L'informazione torna alle 23 ma ora vi lascio al Tg Sport. Grazie. Grazie.